Musica Buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video unboxing in cui andremo ad aprire penso due pacche anche se non sono sicuro E come ho detto tra l'altro andremo ad aprire veramente veramente tanti pop Per quale motivo? Perché è periodo di black friday pop in a box ha fatto black friday anticipato un mese di black friday e quindi ne ho approfittato per prendere un pochino di cose Di cui la maggior parte ovviamente sono dei restini ma c'è anche qualcosa sporadicamente di altri brand che adesso vedrete Ora io però ho ordinato due pacchi il primo lo vedete adesso mi deve ancora arrivare al secondo ma lo vedete ovviamente subito E non so se ce ne sarà un terzo perché effettivamente mancano ancora un po' di offerte Musica Prima di iniziare però voglio proporvi una cosa ovvero un angolo dedicato ai pop Ultimamente sto comprando veramente parecchi pop e il mio obiettivo è averne tanti come vedete spazio un po' di genere C'è Destiny, c'è Star Wars che ho già messo da in cima, c'è My Hero Academia che avete già visto in un video passato E quindi volevo sapere se vi potesse interessare un angolo dedicato ai pop Una mini serie tra virgolette in cui vi parlo dei pop, dove l'ho comprati, dove preferisco comprarli magari per risparmiare edizioni limitate, non limitate eccetera Se vi fa piacere votate al sondaggino che spero di essermi ricordato che è la tasta di qua E detto questo possiamo subito iniziare Ok andiamo subito con il primo pacco che riguarderà dei pop normalissimi Nel senso che non sono pop in edizione speciale come quelli che arriveranno poi con il secondo pacco Ma sono 4 pop, 2 di Star Wars e 2 di Destiny Che essenzialmente venivano venduti insieme, nel senso c'era l'offerta per 4 pop Ok, apriamo subito Il solito Magic Floury Ball E abbiamo i nostri 4 pop Che la metà sono già spoilerati tantissimo Perché mannaggia la morte Allora, le diamo un attimo la scatola e andiamo ad agio ad aprirne una alla volta Primo pop di Destiny Pop di Zavala Veramente carino raga Il pop di Zavala ve lo faccio vedere bene qua Mi piace veramente parecchio Là dietro ovviamente come vedete ho già Qui non si vede ma c'è Cade Outorn Shaxx, Oryx, Crota E, o si, l'avete già visto tutti quanti in altri video Adesso si raggiunge anche Zavala Ovviamente le condizioni del pacco sono perfette Arrivando alla pop in a box direttamente non ci sono mai problemi E molto carino L'ho fatto molto bene Ve lo faccio vedere anche dalla seconda inquadratura Non so bene cosa vedete Ok, Zavala allora ce lo mettiamo da parte E andiamo subito Anzi, apriamone uno di Star Wars Prendiamo questo Allora, questo qua È uno Stormtrooper particolare di Star Wars Sinceramente non so bene Di quale Stormtrooper si tratti È uno Stormtrooper che viene dal film di solo Non so sinceramente Con precisione quale funzione di Stormtrooper sia Però l'ho preso perché era in edizione speciale Essate 2018 Della Summer Convention Quindi molto molto carino anche questo Essendo che volevo prendere qualcosa di Star Wars Ho cercato Ne avevo già visti un paio di Star Wars Che mi interessavano Però poi uno è finito E quindi ho voluto prendere questo qua Perché appunto è l'edizione speciale Anche questo ce lo mettiamo da parte Secondo pop di Destiny Un po' meno carino rispetto al primo Perché parliamo di Ikora Ray Non è chissà che gran pop Il pop di Ikora Perché Ikora non è che sia Quale gran personaggio L'ho preso principalmente per collezione Perché appunto in questa offerta C'erano solamente Zavala e Ikora di Destiny Ovviamente c'è che possono stare altri E li aver presi Come in realtà ho preso Per l'offerta delle edizioni speciali Anche questo ovviamente In condizioni perfette E tra l'altro voglio farvi vedere Che qua dietro Ci sono tutti i pop della prima edizione Sto muovendo tutto E li ho quasi tutti A parte Xur e Ateon Che devo recuperare Essendo edizioni limitate Amazon e GameStop Mi sembra Anche se non vorrei dire una cagata Anche che allora lo mettiamo qua E andiamo con l'ultimo pop di Star Wars Devo dire molto ma molto più figo Ovvero quello di Captain Phasma Molto molto figo anche questo Pop di Captain Phasma Questo viene dalla terza saga di Star Wars L'ultima appunto E' molto molto carino anche questo Captain Phasma è diciamo L'unico personaggio un po' particolare Dell'ultima saga Perché vedete che ci sta Quello di Kylo Ren Che vabbè si ci sta Ma niente di che Quello di BB-8 Poteva essere carino Però insomma Captain Phasma Ovviamente non erano tutti quanti presenti In quell'offerta Quello più carino All'interno dell'offerta Che volevo prendere Era quello di Captain Phasma Molto molto carino Quindi ragazzi Questi sono i primi 4 pop Spero che li vedete bene dalla sopra E direi che ci vediamo subito Con la seconda parte del video In cui ne vedremo altri Molto molto figli Ok ci siamo con la seconda parte Ragazzi questi sono veramente Veramente belli Sono le edizioni limitate Quindi Qualcosa di un po' più particolare Dovranno essere 4 Tutti i restini Solamente che Una di quelle più carine in realtà Ovvero Lo spolverino Quello che poi diventerà Benedict Che al tempo ancora non lo era Era finito in magazzino Quindi hanno dovuto prendere Soltanto 3 Iniziamo dalla prima Che è quella che Diciamo Mi piace di meno Ma comunque molto figa Ovvero quella di Ikora Ray Ci sta qualche robina dentro Quindi dovrò poi aprirla Non l'avrei mai fatto Ma a quanto pare Sono costretto Perché Non so se ci viene da qua Ma ci sta Tipo Un trucolo qua Un'altra robina qua Quindi poi Lo leverò Questo molto carina Ovviamente A differenza di quell'altra Che vedete già Qua so O O O Pra È Ikora Fantasma Quindi è una versione molto più Così Infatti è esclusiva Questa molto carina Ma non Delle Delle più deciderate Diciamo Seconda Questa anche Molto molto bella Solamente veramente Enorme È quella dell'imperatore Callus È pesantissima Raga Non potete immaginare Quanto cavolo Sia Pesante È una delle edizioni Più grosse Ovvero quelle Che sono da 6 pollici Quindi leggermente Più grandi Infatti se vedete La differenza Di pop Effettivo È abbastanza Questo riempie Tutta la scatola E non so se si vede Ma Anche il spessore Curva leggermente La scatola Perché Sporge abbastanza Ed è veramente Veramente pesante Tanto che Se io lo lasciassi così Probabilmente qua si aprirebbe Come vedete qua Inizia ad aprirsi Perché pesa È veramente un casino Ve lo faccio vedere Anche da di qua Diciamo che questo È quello che è arrivato In condizioni Un attimino Peggiori Non so se si vede Però qua Ci sono delle Righine Piccole piccole E soprattutto Con il fatto che È molto grosso Secondo me Anche durante Il trasporto È andato un po' A rovinarsi Diciamo che c'è Questo angolino Che non mi fa impazzire Ma comunque Le condizioni Sono veramente Molto buone Rispetto alla maggior parte Dei pop Che si trovano in giro E ora ragazzi Andiamo a quello Più figo Io penso sia Il pop Di Destiny Più bello Forse dopo Crota Non lo so Fatemelo guardare bene Non lo so Non lo so Però è veramente figo Ovvero questo Questo raga Il pop Di Cade In versione Pistolero È qualcosa Di spettacolare E come leggete qua Si illumina Al buio Se mette a fuoco E ve lo faccio Vedere subitamente Spero si riesca A vedere Dalla telecamera È molto lieve In realtà adesso Però ho spento Tutto Spero si veda È veramente Una figata Allucinante Raga È spettacolare E quindi Questi sono I nuovi Tre pop Che si aggiungono Alla collezione Con questi Me ne mancano Veramente pochi Restini Perché mi manca Solamente Amanda E Gaul Di questa collezione Mentre dell'altra Se non sbaglio Mi mancano Solo Xur e Atheon Che però Essendo esclusive Non sono facilissimi Da trovare Su Popinabox Per esempio Non ce l'hanno Ora mi informo E vedo Vedo se riesco A trovarli Perché quelli Ve li vorrei portare Sarebbe la collezione Intera Veramente una figata Poi c'è un personaggio Molto particolari Diciamo Che se proprio Volessimo avere La collezione Completa 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 Ci sarebbe anche Ah vabbè Lo spazzino Ovviamente Che me lo sono dimenticato Anche quello Devo ritrovarlo Perché era Un'edizione limitata Estate 2017 Può essere 2008 Forse Non lo so Ma Quelli Veramente fighi Sono Osiride Tutto dorato Che era esclusivo Bungie store Durante l'espansione Appunto Di Osiride Che rimpiango Di non aver comprato Perché adesso Costa una cosa Come 50 euro Valutato E quello Che è ancora più figo Ovvero Crota Dov'è Crota Qua In versione Chase Ovvero in versione Che si illumina il buio In stile di Cade Però veramente Veramente Molto Molto Figo Quindi ragazzi Queste sono le tre New Entry Non so veramente Dove le metterò Ma forse Comprerò una bacca A parte Perché non ho più spazio Se sapete dove posso Trovare Quelle che mi mancano Ovvero lo spazzino Xur E Aton Magari anche Crota E Osiride A un prezzo decente Fatemelo sapere Per favore In descrizione E ovviamente Non mancherò Di portarveli E detto questo Vi direi che se il video Vi è piaciuto Lasciate like Commentate Condividetelo Di tutti quelli Che non conoscete Che c'è la trallissima Seguite anche su Instagram Vedetevi che come ogni video Vi lasciamo qua sotto In descrizione Anche da bellissimo Nuovissimo Fantacissimo sito E detto questo Ci vediamo alla prossima Ciao Siamo la tua Salvezza 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 Salvezza